Letto Palena, Letta in Abruzzese, è un comune di 320 abitanti detti lettesi che fa parte della provincia di Chieti. Nel 1992 Letto Palena è stata anche inclusa nei comuni del Parco Nazionale della Maiella. Il toponimo è composto di un derivato del latino lectus in senso geomorfico dal significato di rialzo erboso o di terra e Palena attributo assunto di recente per la vicinanza a questa località. Il paese di origine medievale risale al mille ma forse fu sotto il dominio di Iuvanum in epoca romana. Scarsi comunque sono i documenti che pertanto non consentono di creare una cronologia storica ben definita. Tuttavia si può affermare che nel 1400 fu feudo di Antonio Caldora, poi dei di Capua, Conti di Palena, mentre nel 1600 fu dei d'Aquino. L'importanza del paese era dovuta alla presenza di cave di gesso ma anche del monastero di Santa Maria del Popolo in Monte Planizio che detenne fino al 1200 il possesso del feudo. Il borgo vecchio era strutturato con un cardo e un decumano costruito lungo la scarpata che precede il fosso del ponte di pietra che lo collegava alla via della Maiella. Le case erano in pietra e calce e il borgo possedeva, come si vede da immagini anteguerra, due porte di accesso. Nel novembre 1943 il paese fu raso al suolo dai tedeschi. Infatti in ottobre le truppe di Albert Kesserling, adottando la tattica della terra bruciata, in ritirata lungo la linea Gustav verso Cassino, si asserragliarono nel paese. La casa di Felice De Vitis fu presa come quartier generale mentre avveniva il rastrellamento della popolazione verso Palena. Il 20 novembre il paese, interamente minato dalle fondamenta, fu fatto saltare in aria e cancellato definitivamente. Rimase in piedi solo la chiesa di San Nicola con il soffitto sfondato, mentre buona parte del monastero di Santa Maria di Monte Planizio andò distrutto e anche il ponte di accesso fu fatto saltare. Nei giorni successivi alcuni abitanti tentarono nuovamente l'accesso al paese, ma furono catturati dai tedeschi, espediti con tutto il resto della popolazione al campo di prigionia di Roccapia, ad oltre 30 chilometri di distanza, in mezzo alla neve della montagna. Durante la marcia morirono donne e bambini e solo dopo il 1945 Letto Palena fu nuovamente accessibile, cioè alla fine della guerra. La ricostruzione del nuovo paese avvenne sopra il Monte Planizio, intorno all'abbazia, divenuta dopo i restauri una semplice chiesa per il cimitero. Solo parte della periferia storica del paese, ossia il rione Monte Planizio con l'abbazia omonima, oggi resta in piedi dunque. A causa della distruzione nazista, casa per casa, pochi ruderi delle abitazioni antiche sono sparsi nella parte bassa del paese, presso il ponte di pietra che guarda il fiume Aventino. Fotografie storiche prebelliche dimostrano come l'antica Letto fosse un borgo fortificato a nido d'Aquila, con il palazzo Castello in posizione dominante, le case attorno, parte della cinta muraria rivolta a nord-ovest, mentre la chiesa si trovava verso la periferia orientale. Tra i prodotti tipici di Letto Palena troviamo in primo piano il caciocavallo, formaggio stagionato a pasta filata, prodotto con latte vaccino e dalla caratteristica forma a sacchetto. I salumi e le carni sono, da tradizione locale, insaporiti con diversi aromi durante la preparazione. Anche le ricette tradizionali sono arricchite con spezie di ogni genere, come il peperoncino rosso piccante e quello rosso dolce.